La love story tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, nata all'interno della casa del grande fratello VIP5, continua a essere al centro dell'attenzione mediatica del momento. I due, infatti, da quando si sono spenti i riflettori del celebre reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, non si sono più lasciati neppure un solo istante. In queste ultime ore, a lanciare nuovi retroscena sulla coppia ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rossica, che ha puntato il dito contro i due giovani fidanzati, accusandoli di essere protagonisti di una storia d'amore finta. Storia televisiva, totalmente costruita. I famosi Zengavo, formati da Rosalinda e Andrea, non credo assolutamente a ciò che vedo. Una tiritera creata ad hoc per fare follower, gossipate, giornali e tv, ha sbottato Rossica sui social svelando questo retroscena sulla coppia nata all'interno del grande fratello VIP5. Voi cosa ne pensate di queste parole?